oh ciao te ne vai per favore o cacchio no 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 corri 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 si è bloccato tutto corri salva a tutti ragazzi bentornati dal vostro itupone sono qua su diagnosis multitude Suggerito da MMSMRS Grazie mille amico Non troverete il canale in descrizione perché il suo account non ha un canale E non so neanche se avete sentito la mia voce in tutto questo perché ci stava una musica fortissima Eccola appunto Vabbè io direi iniziamo subito a giocare Start Adventure Ok Ah non c'è modalità fantasma, non c'è nulla, cioè è proprio così Si tratta grazie di un gioco appena uscito Quindi il video inizia con Mr. Volpe che mi rinchiude dentro la stanza Ok, grazie mille, sei proprio un amico E io ora devo cercare un modo per uscire Ah, mazza così, ti punta in bianco Allora ragazzi, io ho visto il gameplay di Luke e mazza davanti è sensibile comunque L'età a livello, beams Ok, continuiamo Adesso non si muove per niente Allora devo trovare un modo per muovermi Allora se non ricordo male, quando il tizio si avvicina Dovrebbe Dovrebbe iniziare a scurirsi tutto Intanto queste le posso spostare Oddio, su cosa sono salito? No, questo è vuoto No, neanche questo No, neanche questo Ficchiamoci qua Questa la posso spostare, no? Salve No, questa è chiusa Questa la posso spostare, no? Oh, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Ok, c'è di buono che Oh, mi si è aperto il menu a caso, ragazzi Perché io ho già visto il gameplay di Luke, ragazzi E sto coso si apre il menu a caso Dov'è, 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 via, via, via Sento passeggiare Sarà, mi metto un'ansia assurda sto gioco È chiuso Andiamo qua nella ventola Che succede? Ah, ecco Sento muoversi, ragazzi Lo sento muoversi Eh, di qua Salve C'è qualcosa No, non c'è niente Però io mi risargo su, guarda Andiamo di qua Ragazzi, io ovviamente giochi li faccio Ma non è tutto che li finisca all'allero Oh, 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 oh Ciao Eh, te ne vai per favore? Mister Volpe, per favore, può andarsene? Ma perché si apre il menu, ragazzi? Cioè, si apre il menu a caso Quello si inginocchia intanto Per favore, vattene Dai che devo passare, ti prego Ok, ok, se n'è andato, se n'è andato Va bene Comunque non sa salire le scale Bene, buon per... Buon a sapersi Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Via, 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 via Sali, 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 sali Sali, sali, dai Ok, lui sta qua Io me ne vado da questa parte, allora Devo trovare degli oggetti Ma non so proprio dove cercare Intanto qua c'è una nebbia blu Ok, sembra essere tutto tranquillo qua Qui non mi posso andare Non posso Non posso andare Cacchio, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Se me nascondo qua non viene a cercarmi, vero? Forse devo aumentare un po' la luminosità, ragazzi Ah, è già al massimo No, è proprio il gioco che è buio, allora Qui c'è qualcosa Ovviamente ha bloccato questa porta Dove posso andare? Salve Niente, si apre il menu, ragazzi Si apre il menu a caso Cacchio No 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 Ma come fa a giocare questi giochi? Cioè viene l'ansia Stai già li ho controllati Oh dove sta? Oh merda che ansia Posso stare su sto coso? No Io ho paura di beccarmelo davanti Regà eh Dunque è veramente originale La cosa che bisogna cercare No 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 Via 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 corri 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 tanto questo è cieco Ok mi ha già perso di vista infatti Vattene ti prego Vattene Vattene via bravo bravo Intanto qua c'è qualcosa che luccica cos'è? Ah infatti questo mi serviva Questo mi serve per Ci stanno connicoli a caso per sbloccare la grata Questo è vuoto Oh basta aprirmi il menu per favore Oppure questo è vuoto Quella non posso controllarla No Acqua Oh cacchio No 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 Corri 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 come se non ci fossero domani Corri 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 mamma mia corri Vai dentro vai dentro vai qui dentro Tanto lui non può passare qua Il volpe Io vado di qua eh per favore non mi insegua Il signor volpe io sono suo amico No lo sento state qua state qua aiuto aiuto Che agitazione Ok ecco la porta Vediamoci dentro Ok dobbiamo togliere sti cosi Perfetto Entriamo qua Eh cerca cerca che tanto non mi puoi prendere Sarebbe utilizzabile se usassi la siringa Basta aprire il menu per favore Ora dobbiamo andare di là a prendere la cosa Tanto mi sono incastrato ragazzi non riesco ad uscire Olè Eh l'allero Che cosa ho visto Via 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 Mamma mia proprio davanti me lo so trovato No 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 Corri, 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 qua dentro, qua dentro, corri, 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 mamma mia, ho preso un infarto, andiamo a prendere la chiave, mamma mia regà, quanto, quanto mette agitazione sto gioco, mamma mia regà. E ovviamente lui sta qua, perché non sa dove andare, vabbè, aspettiamo che se ne vada sto decretino, ti prego vattene, sono tuo amico, non ti faccio male, te lo giuro. Tutto questo mi sta registrando, ok sta registrando, oh, via, 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 vattene, ti prego. Ok, se ne è andato, se ne è andato, se ne è andato. Oh, non mi hai visto, e basta con sto menu, ma se ne mi nascondo qua mi vuoi vedere. Sta là, sta là, vedo la sua foschia, vedo la sua schifo foschia, oh, la sua schifo foschia. Ciao, non mi vedi, sono l'uomo invisibile, per favore vattene, sono tuo amico. Perché si abbassa? Ma che sta a fa'? Ecco, io devo aprire questa cosa. Quindi adesso andiamo a trovare la chiave, eccola. Dobbiamo prendere questa. no 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 vattene 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 corri corri sulle scale sulle scale sulle scale che lui non può prendermi ovviamente lui deve girare qua ma come si fa veramente? cioè questo continua a starmi all'icalcagna Vattene Vattene schifoso Ok Ora via di qua Abbiamo la siringa Perfetto Vai vai Sali Sali mamma mia Ah già mi devo abbassare Basta con sto menù La raga veramente continua ad aprirsi sto menù infame Che cosa scomoda Dunque sta da queste parti Sta vibratutto qua Ora devo andare nella stanza con il liquido blu E iniettarglielo Dov'è che dovevo andare? No non era di qua Va bene ci passano treno E tu non riesci ad entrarci Vai qui dentro Olè Andiamo a prendere il liquido blu Ok Ora devo Ora devo farmi catturare da mister pazzo E sta da queste parti Dove sei? Vieni qua che ti aspetto Vieni qua Dai vieni qui amico Divertiamoci un po' Ehi Dove sei? Dove sei? Eccolo Eccolo Dai vieni 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 Fatto L'ho insiringato L'ho insiringato Perfetto Ora sei guarito amico Tutto a posto Che fai mi ringrazio? Dove mi porti? Mi stai prendendo per mano spero Non è che mi stai trascinando per la stanza Posso ruotare la visuale? No Potevo ruotare la visuale L'ho finito ragazzi Incredibile Ok grazie mille Grazie anche per questa pausa Ragazzi ho finito un gioco Incredibile E va bene ragazzi Il video di oggi termina qui Spaccate i like Iscrivetevi Suggerite giochi E alla prossima dal vostro 8 pone Ciao ciao ragazzi